Alla fine per la provincia di Padova ne sono rimasti 25, 25 su 500, che era il numero massimo di candidati per provincia ammessi al concorso per Navigator, la nuova figura professionale che aiuterà chi ha chiesto il reddito di cittadinanza a trovare lavoro. Per il Padovano dunque la spuntata 1 su 20, per ogni nuovo Navigator ce ne sono 19 che non ci sono riusciti. Tra i vincitori del concorso, anche se non confermato, dovrebbe esserci anche Roberto Natale, direttore dell'ufficio scolastico territoriale di Padova e Rovigo. Il suo nome compare nella lista dei prescelti, ma al momento non c'è ancora conferma ufficiale. Di sicuro c'è Simone Burattin, 44 anni, una laurea in scienze politiche e un'esperienza lavorativa di 10 anni in un CAF. Erano 100 domande in 100 minuti, quindi si aveva un minuto a domanda per ragionarci e secondo me era strutturato bene, nel senso che un 50% era mirato a conoscenze dovute allo studio e un altro 50% a mio parere era un po' di struttura generale e per comprendere se una persona diciamo un po' sveglia oppure no. Per Simone Burattin hanno fatto la differenza i trascorsi universitari e quindi le conoscenze di diritto del lavoro o di economia aziendale. Altre domande erano legate al reddito di cittadinanza, che pur non comparendo ancora nei testi universitari, non si può certo dire fosse un tema da trascurare preparandosi al concorso. Eravamo in tantissimi a Roma e chi ha osato di più è riuscito a portare a casa il risultato perché vedo che molti che hanno raggiunto soltanto la sufficienza, cioè il punteggio di 60, si stanno lamentando del fatto che questo però non comporterà nessun beneficio. Ma diciamo che solo chi osava rispondere a molte domande ce la faceva. Io ne ho fatte 93 e chiedendo a moltissimi non sono andati oltre le 70. Ora per Simone e gli altri 24 navigator della provincia di Padova si tratta solo di attendere la chiamata per prendere servizio. Stiamo aspettando una fatidica mail dell'Ampal che ci dirà quando finalmente dovremo prendere servizio oppure comunque quando dovremo presentarci.